Cittadella mediterranea della scienza, una domenica in famiglia con cittadebimbi.it Ora parliamo di una cosa serissima e lo facciamo con Vito Loseto, istruttore nazionale di manovre di disostruzione della Croce Rossa italiana. Una cosa seria, quante volte i bambini restano col boccone in gola, succede, purtroppo succede, ci sono anche dei casi abbastanza recenti proprio in Puglia. Proprio a Bari nel successo uno con quella maledetta polpetta purtroppo. E quindi andiamo subito al sodo, lei chi ha in mano? Io ho un bambino, un manichino di un bambino, poi c'è l'attante che va da un anno fino a un anno, fino a 70 cm, fino a 10 kg di peso. Eccolo qua, fino alla pubertà. Allora, in questo caso siamo a una festa, ce ne accorgiamo che un bambino comincia a tossire. Ovviamente già il luogo ci può fare indicare la posizione di pericolo, un'oliva, delle patatine, popcorn, sandwich, di tutto. I famosi viusti e i maledetti, i famosi viusti e i maledetti. Ok, e vediamo un bambino che sta tossendo, ce ne accorgiamo immediatamente, ci avviciniamo e lo incitiamo a tossire. Bambino, senza scuotolo, senza fare niente, bambino, bambino, tossisci, tossisci. Il bambino tossisce quando inizia a mettere le mani alla bocca, così è alla gola, è il segno universale di soffocamento per tutte le persone, adulti e bambini. In quel caso lì, gli chiamo a una persona vicina, tu, chiama il 118, c'è un bambino che sta soffocando. Quindi afferriamo il bambino sotto il braccio con la mandibola così, lo afferriamo saldamente e lo mettiamo sul nostro ginocchio. Ovviamente abbiamo fatto spazio, ci siamo creati una zona sicura, allontaniamo e cominciamo a dargli cinque corpi, in te scapolari, con fuga laterale esterna, non dobbiamo colpire la testa. Uno, due, tre, quattro, cinque. Non è successo niente, lo mettiamo al petto, lo mettiamo di lato perché se il bambino si dovesse riprendere, lo mettiamo così, ci dà una bella botta alla dentiera. Sbotoniamo, un dito sull'ombelico, un dito sullo sterno, la punta dello sterno, abbiamo fatto una C. Con l'altra mano chiudiamo il dito così e lo infiliamo sotto lo sterno. Tutte e due afferrano le mani e danno questi colpi, cranio, caudali, verso l'alto. Le chiamiamo colpi a cucchiaia, compressioni a cucchiaia perché ritiriamo la testa, la mano e andiamo così, verso l'alto. Uno, due, tre, quattro, cinque. Si sente? Si sente. Queste sono compressioni che oltre a far uscire l'aria servono a far circolare il sangue perché noi la situazione principale con queste manovre è quella di impedire che si fermi il sangue al cervello. Dobbiamo impedire la nosia. Dopo sette minuti abbiamo dei danni cerebrali irreversibili per il bambino. Divento vegetale. Se fino a questo momento non è successo niente... Quindi continuiamo con le manovre. Uno, due, tre, quattro, cinque. Non è successo ancora nulla. Continuiamo. Queste manovre si continuano all'infinito fin quando non arriva il 118. Non si è ripreso. O disgraziatamente ha terminato, diciamo, non è più cosciente. In questo caso dovremmo fare, metterlo per terra e fare le manovre di rianimazione cardiopormonale. Ma quella è un'altra cosa. In questo caso, prima ancora di fare così, controlliamo il cavo orale, se c'è qualcosa usciamo fuori. In questo caso io chiamo il 118 e dico le manovre che sto effettuando, che ho effettuato e l'intervento specifico. Però, come dicevamo, se il bambino non è così grande, ci sono delle altre manovre da fare o no? Allora, se il bambino non è diventato lattante, in questo caso qui abbiamo un lattante, le sagome è precisamente di un bambino di 70 centimetri, 10 chilogrammi, meno di un anno. In questo caso dove lo troviamo? Lui ovviamente non parla, non lo possiamo incitare. Lo troviamo in culla, lo troviamo con il rigurgito e ovviamente non parla e tossisce. Quando termina di tossire, allertiamo il 118, tu chiama il 118, si individua una persona precisa, se non c'è nessuno grido, per chi è profano e sta in caso, lo afferra, lo afferra così, guardate attentamente le mani e lo metto sul braccio. Una mano sotto il sedere e l'altra tenendo la mandibola. Sempre la mandibola, il punto di presa. Ok? Una mano sotto la gamba e mi cuino sul ginocchio, perché devo creare la compressione tra il petto e la schiena e anche qui, in questo caso, 5 corpi interscapolari con fuga laterale. 1, 2, 3, 4, 5. La forza ci deve essere. Quindi non dobbiamo preoccuparci di fare un po' più forte? Assolutamente no, perché è meglio, al limite, una spalla lussata di un bambino morto. Ok? Assolutamente sì. Ok? Non è successo nulla. Prendo il racchetto del bambino, guardate le braccia, non lo muovo minimamente. Lo gira proprio tenendole quasi parallele. Sì, perfetto, come una frittata. La testa dritta, la testa iperestesa, i due capezzoli, al centro, due dita a martello. 1, 2, 3, 4, 5. Guardate il ritmo, questo serve proprio giusto per pompare il sangue. Suota, riempi, suota, riempi, suota, riempi, suota, riempi, suota, riempi. Ok? Riprendiamo le manovre. 1, 2, 3, 4, 5. E sì, all'infinito. Intanto speriamo che arrivi il 118. No, diciamo che in questo caso non aspettiamo il 118 perché queste manovre sono risolutive all'80%. Quindi dovremmo riuscire a far tornare... La statistica dice che il secondo passaggio, a meno che il bambino non abbia delle disfunzioni, abbia all'80% dei casi e abbiamo risolto il problema. Vito, il bambino fortunatamente si è ripreso. Mamma mia, mi stavo agitando. Cosa facciamo una volta che il bambino si è ripreso? Prima cosa ci calmiamo noi. Ah, meno male, perché io sono molto agitato. Ci accomodiamo magari, facciamo accomodare accanto a noi il bambino e attendiamo i soccorsi. Perché il bambino, dopo la fuoriuscita del corpo estraneo, ha bisogno di essere visto al dottore. È fuoriuscito tutto, è metà, ha subito dei danni. Quindi, visto che abbiamo chiamato il 118, attendiamolo per questo motivo. Non lo carichiamo in macchina, non lo mettiamo da solo in macchina, perché se lo mettiamo da solo in macchina, non siamo agitati, creiamo altre persone. Se sta da solo in macchina, dietro non lo controlla nessuno, attendiamo i soccorsi. L'abbiamo salvato. L'abbiamo salvato i soccorsi, dobbiamo calmarci, non dobbiamo dare da bere, attenzione. Mamma mia, io stavo già pensando di dare il mezzo bicchiere d'acqua. Sei quella nonna che dice, prendi l'acqua bambino. Non sappiamo l'ostruzione, se è completa o c'è rimasto qualcosa, c'è il rischio che magari prendiamo l'acqua e riformiamo un nuovo tappo. Perciò, calma assoluta, aspetta, attendiamo. E non date l'acqua, lasciate perdere la nonna, l'acqua non si dà, giusto? Benissimo, perfetto. La cosa importante è non perdere la calma. Assolutamente no. Altrimenti andiamo nel panico e queste manovre non riusciamo a fare. Le ho fatte in pochi secondi, ripeto. Le ho fatte in pochissime secondi. Ma lei è esperto, lei immagini una mamma o un papà che hanno questo problema. Ci sono i corsi, ci sono i corsi. Frequentiamoli perché è determinante. Passiamo la voce, diventiamo moltiplicatori di queste manovre.